Indubbiamente è una bella mostra di un artista che va per la maggiore in Moldavia, particolarmente conosciuta e qui io voglio valutare invece l'aspetto più propriamente politico-amministrativo di relazione fra i popoli. Abbiamo oggi in regione una mostra contemporanea di un artista moldava. Avevamo tre mesi fa una mostra presentata dall'ambasciatrice della Repubblica Moldava in Italia che andava alle radici di questa terra, ovvero una mostra di arte antica. A testimonianza che la regione toscana, l'integrazione europea, la cerca di costruire non solo sul piano della relazione fra gli stati ma sul piano delle iniziative culturali, sul piano dell'incontro con ciò che rappresentano paesi europei di derivazione latina come la Moldavia o come la Romania, sul piano della storia, della cultura sia antica che contemporanea.